È riuscito a mettersi in salvo prima che il mezzo sul quale viaggiava venisse divorato dalle fiamme. Un uomo alla guida di un Apecar aveva sentito alcuni rumori strani, c'era qualcosa che non andava. Ha quindi deciso di accostare e scendere dal mezzo. Ha visto che usciva del fumo, a quel punto ha allertato il 115 ma ha anche scaricato una serie di attrezzi che stava trasportando. In pochi istanti le fiamme sono esplose con violenza e hanno distrutto l'Apecar. I pompieri da Vicenza e Lonigo hanno spento il piccolo motocarro ed ora stanno vagliando le cause che hanno innescato l'incendio.